La maledizione delle squadre laziali. Il Lanciano cade per la seconda volta in questo campionato, la prima, lontano dal Guido Biondi, contro un'altra squadra laziale, contro il Latina di Roberto Breda, che riesce a salvare la panchina. Finisce 1-0 per i Pontini e a griffare la contesa, ci pensa della Fiore. Il Lanciano di Roberto D'Aversa è il solito con il ritorno di Tiam in avanti e l'assetto tattico che fino a questo momento ha dato tante certezze, soprattutto in fatto di punti. Che la sfida del Francioni non sia una passeggiata per il Lanciano lo si intuisce immediatamente. Breda si gioca il tutto per tutto e sa benissimo che se non dovessero arrivare i tre punti, la società Pontina gli potrebbe dare il fatidico ben servito. Non sarà però così al novantesimo. Prima della gara, il momento toccante e commovente in ricordo del giovane Lorenzo Costantini, l'ex capitano della primavera del Lanciano, stroncato da una rarissima forma di leucemia a Filadelfia lunedì scorso. I funerali per Lorenzo si terranno giovedì 20 presso la cattedrale di Lanciano. Intanto i 300 sostenitori rossoneri a Latina hanno inneggiato spesso il nome dell'ex capitano proprio a testimonianza dell'affetto per l'ex capitano rossonero. La gara non è bellissima. A volte alcune fasi di gioco sono piuttosto confuse in Latina. È molto aggressivo badando poco alla forma e tanto alla sostanza, anche se le occasioni più nitide del primo tempo sono del Lanciano e sono firmate da Gatto e soprattutto da Gaetano Vastola che timbra il palo. La prima conclusione della contesa è dei padroni di casa al terzo, tiro cross dell'ex al Mici e Nicolas che devia in corner. Dagli sviluppi dell'angolo il pericolo lo crea Pettinari ma la palla si spegne sul fondo. Canduscio di Cervignano del Friuli non è molto malleabile dal punto di vista disciplinare in poco tempo. I gialli estratti saranno tanti e diversi. Il primo a farne le spese sarà Paghera. Al decimo il primo squillo rossonero con un lancio di Aquilanti per Gatto che tenta di approfittare di un'uscita non certo impeccabile di un altro ex, il portiere Farelli, ma la sfera si spegne sul fondo. Al diciannovesimo il Lanciano deve rinunciare a Capitan Mammarella, problema inguinale per il terzino frentano che prima di lasciare il posto a Nunzella rimedia anche un giallo. Mammarella era in diffida. Al ventitreesimo ancora angolo del Latina colpo di testa di Pettinari ma Nicolas spara. Al trentaduesimo, alla prima azione concertata del Lanciano, i frentani fanno male con un cross di Gatto al centro dell'aria per Vastola che a volo impatta il palo. Ancora Lanciano nell'azione successiva con Piccolo che offre un ottimo pallone a Gatto ma l'esterno calabrese prova la conclusione e ignora di fatto Tiam sciupando un'occasionissima. Poi sul finire di prima frazione di gioco un calcio di punizione di Paghera al centro dell'aria per Tröst ma l'incursione del centrale difensivo danese non è efficace. Nel secondo tempo l'approccio più convinto è sempre della squadra di Breda che alla prima occasione passa. Minuto 10, corner di Rossi per i Pontini e il relativo colpo di testa di Petagna che fa compiere un primo miracolo a Nicolas. Ma poi arriva il tapin vincente di Della Fiore che sfugge alla marcatura di Tiam e la sua conclusione inspaccata che non lascia scampo al portiere brasiliano del Lanciano. Le occasioni non fioccheranno con il Latina più attento a controllare e il Lanciano bloccato soprattutto nelle ripartenze. D'Aversa prova la mossa Grossi ma anche l'esterno ex Varese non cambierà il volto alla contesa. Sul finire di cara ci prova Dudu ben imbeccato da Sforzini ma Nicolas è bravo di piedi fuori dall'area di rigore. Poi nulla più con un Lanciano che conosce la prima sconfitta esterna che però non pregiudica nulla per il futuro rossonero.